ok oggi parliamo di rispetto cosa fare quando la tua donna ha perso il rispetto per te come comportarsi qual è il modo migliore di agire per poi riattivare l'attrazione perché dico questo perché il rispetto porta con sé anche la mancanza di attrazione quando una donna perde rispetto per un uomo perde anche attrazione di conseguenza perde anche amore ma ci arriviamo prima di partire se non mi conosci io sono giosuè di attrazioni x puntocom ho scritto un libro si chiama proprio attrazione x lo trovi su amazon questo non è un video sulla seduzione infatti mi occupo di attrazione insegno a agli uomini quelli quelli che sanno sedurre soprattutto si rivolgono a me perché perché sedurre facile sedurre è una piccola parte del processo di attrazione sedurre è una cagata ragazzi c'è se voi siete focalizzati sul sedurre e non vi chiedete che cosa può venire dopo la seduzione vi trovate poi in un bagno in merda come tutti quelli che si rivolgono a me che mi scrivono la mail sono emotivamente coinvolto come si fa a non essere emotivamente coinvolto ciao ne ok perché molti che mi hanno scritto infatti ringrazio quelli che stanno lasciando le recensioni sotto sotto amazon ma molti mi scrivono in privato proprio dicendo guarda grazie al tuo libro magari averlo letto prima perché ho capito gli errori che ho fatto nella mia ultima relazione tutti gli sbagli che ho fatto è vero ragazzi è vero è il più delle volte gli errori derivano da noi da noi che con una visione completamente distorta del mondo di come funziona la trazione di come di come pensiamo che che vada un che debba andare un rapporto tra uomo e donna non riusciamo a capire ma perché la trazione dinamica quindi non c'è una regola fissa diciamo ok devo essere così si devi essere così fino a un certo punto poi a un certo punto le cose cambiano e se tu queste cose non lo sai per quello che li chiami meccanismi della trazione perché sono proprio meccanismi c'è un cambio di dinamica per esempio prima del sesso dopo del sesso queste cose ne parlo nel libro in cui se noi facciamo promessa all'inizio oppure ci comportiamo in un modo per sedurre una donna che va bene fino al sesso perché poi il nostro obiettivo è quello no in maniera naturale poi c'è quella parte c'è quella parte cioè il dopo di portare avanti una relazione che in un certo senso è innaturale la relazione la il fatto della monogamia la relazione che dura nel tempo non ha niente a che fare con la seduzione del sesso sto parlando in maniera biologica non è che noi siamo venuti sulla terra ci dobbiamo accoppiare per riprodurci quindi abbiamo siamo spinti da questa energia da questa forza vitale che ci manda nel mondo a procreare ok non c'è questa questa idea che siamo venuti sulla terra per portare avanti una relazione ma non dico che sia sbagliato assolutamente bisogna soltanto capire che quella parte lì è è artificiale ok è fatta da credenze fatta da come si sta in società è fatto da un quieto vivere tutto il resto ma perché comunque è bello rimanere in una relazione è bello fino a quando fino a quando la poi non perde attrazione cosa succede quando una donna perde attrazione oggi guardiamo infatti il perdere rispetto allora se una donna perde rispetto tanto cosa vuol dire anche che non ti apprezza non ti rispetta ti comincia a offendere non vale niente parte con poco un'offesina di cuono fesina di lati comincia a chiamare in un modo e poi la cosa va degenerando allora quando una donna non ti rispetta il miglior consiglio che ti posso dare vattene immediatamente è come faccio come fai non te ne vai te ne vai perché l'unico modo non per andarsene da vigliacchi è l'unico modo per ricostruire l'attrazione oltre al mio libro puoi andare anche sul mio sito c'è anche un ebook che vendo a parte e lo trovi soltanto sul mio sito non lo trovi su su amazon come riattivare l'attrazione in otto passi quindi se sei interessato se ti trovi in quella situazione in cui non hai voglia di leggere 300 pagine di un libro supportato da 120 studi scientifici quindi non sono mere opinioni o roba che mi sono inventato io e hai fretta quel libro può essere per te ora al di là della pubblicità ho visto molte situazioni in cui uomo e donna ragazzo e ragazzo si trovano a iniziare una relazione con il botto si mandano messaggi lei che va a casa di lui lui che va a casa di lei scopano fanno si vedono aperitivi stanno sempre insieme messaggio è bellissimo una situazione bellissima lei è affettuosa lei è innamoratissima lei è innamorata anche della sensazione di essere innamorata quindi la vedi che dice ok questa è la mia donna non c'è nessuna non ho mai amato nessuna donna quanto lei è una figata ragazzi lo sappiamo tutti il problema è che dopo uno due mesi questo questa fiamma iniziale come per definizione scema ok cioè se ne va uno due mesi lei comincia a solidificare la relazione il problema che tu questa cosa del solidificare perché ha scelto te e anche tu comincia ad ammorbidirti credi in quelle cagate del prima c'è la seduzione e poi l'amore e poi l'amore si consolida l'amore diventa maturo l'amore diventa che palle ok se noi crediamo queste cose poi ci abbandoniamo l'uomo si inizia ad ammorbidire comincia a diventare debole comincia a diventare accondiscendente compiacente ragazzi se voi andate in un qualsiasi cinema e vi mettete a il bar del cinema e vedete le coppie che vanno al cinema riuscite a capire le coppie giovani da quelle meno giovani il più delle volte la donna è avanti è la donna che sceglie il cinema è il film è la donna che che se ne va in giro a guardare è la donna che trascina l'uomo non va bene questo infatti quando lui inizia ad ammorbidirsi e ragazzi sto parlando del dopo quindi non ammorbiditevi prima per dio ok cioè quando fate i corsi di seduzione che io se mi conosci sono contrario proprio per questo fatto perché ok si ci differenziamo dalla massa degli altri coglionazzi però ragazzi se noi dobbiamo sempre guardarci e confrontarci con la massa di imbecilli ok quelli che proprio donne zero capacità sociali zero non possiamo poi pretendere di migliorarci ancora di più cominciamo a confrontarci con chi è capace davvero ma non per forza con chi è capace con le donne con chi è capace nella vita in generale ok uomini che hanno un obiettivo hanno un focus hanno hanno una mission di vita cioè loro sanno che cosa vogliono non hanno neanche tempo neanche tempo perché dei progetti talmente importanti di stare addosso a delle donne inseguire le donne infatti mi è capitato di vedere il una roba che purtroppo mi capita su youtube facendo questi video e capita anche il feed mi riconosce come creare una mentalità di abbondanza di donne anche quando non se ne hanno la soluzione se notate la soluzione che vi danno gli altri è sempre credere perché perché un fatto mentale ed è giusto credere che di avere davvero quelle donne e fin lì io posso dare ragione ma perché dico continuare a parte che è difficile ma se è difficile non vi giusti non vi giustifico a pensare che sia difficile è che se se noi pensiamo di avere tante donne e ci comportiamo è difficile il risultato intendo e ci comportiamo in un modo con un'altra donna pensando che ne abbiamo altre a casa che ci aspettano la domanda che sorge spontanea è se tu ne hai altre perché ti stai dedicando a quella questo qua non ve lo dice nessuno questo pensiero non ve lo fa fare nessuno perché 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 non vende un pensiero che non vende ragazzi cioè io sono sono l'anti vendita praticamente però se volete acquistare il mio libro su amazon dico anti vendita perché non vi voglio portare sulla strada del facile il facile non è attraente l'uomo che cerca la strada facile proprio a prescindere non è attraente e già da lì si parte che se vuoi un corso di miglioramento che in un oro due tre quattro con un po di pratica in un weekend diventi una bestia ragazzi è una stronzata ok cioè capitela questa cosa è una stronzata poi andate indietro in questo video e l'esempio che vi ho fatto vi potrebbe anche aprire gli occhi comunque ritorniamo all'esempio di prima quando l'uomo inizia ad ammorbidirsi nella relazione ci troviamo in una relazione la cosa sta andando bene dopo uno due mesi si ammorbidisce comincia a diventare accondiscendente comincia a fare a scendere a compromessi molti dicono bisogna scendere a compromessi ragazzi cosa vuol dire scendere a compromessi in una relazione vi avverto se non avete la testa abbastanza aperta per capire la frase che vi sto dicendo aspettate riguardato il video oppure cambiate canale se non l'avete già fatto e canale canale youtube se non l'avete già fatto scendere a compromessi in una relazione e queste cose le dovete leggere nel mio libro se non ci capito un cazzo ma una donna vorrà sempre stare con uno un uomo che è di valore superiore a lei ok la donna deve sempre vedere il suo uomo dal basso verso l'alto le femministe qua che mi diranno no non è vero se è un maschilista no ragazzi è biologia ok se no perdo una trazione ma non è che se ne accorgono è come se un interruttore nella loro testa dicesse provo più niente ma chissà perché non provo più niente per questo motivo perché l'uomo si è abbassato infatti scendere a compromessi innanzitutto ragazzi la parola compromesso se andate sul vocabolario è una persona che è compromessa ok quindi è in pericolo scendere scendere vuol dire proprio quello che ho detto poco fa tu ti abbassi al livello della donna quando crediamo a questa cosa che in una relazione debba esserci 50 e 50 siamo dei poveri illusi cioè stiamo vivendo in un mondo di fantasia non c'è il 50 per il 50 e 50 in una relazione mai non ci deve essere deve esserci sempre l'ottanta 20 in favore dell'uomo e la donna questo lo desidera non lo ammetrà mai assolutamente ma lo desidera ok ovviamente farà di tutto attraverso i test ne ho parlato in altri video attraverso il raffreddamento ne ho parlato un altro video fatti un giro nel mio canale o nel mio blog parlo di queste cose farà di tutto per togliere quell'ottanta te per farti abbassare al 50 ok e se ce la fa l'attrazione non la prova più quindi le donne vogliono essere comandate vogliono essere vogliono che tu comandi la relazione non lo ammettono ma faranno pure di tutto per toglierti il potere nella relazione se ci riescono l'attrazione scema l'attrazione muore l'attrazione se ne va ok quindi ritornando a quello che stavo dicendo quando un uomo andiamo in voglio farvi capire anche che cosa prova una donna quando noi ci indeboliamo in una relazione diventiamo il suo uomo ok andiamo anche a convivere pericolosissimo andare a convivere quando non sappiamo queste cose il più delle volte ragazzi noi andiamo a convivere perché vogliamo stare con quella donna oppure perché lei ci ha messo in un bivio se noi siamo una persona che l'interesse per lo sport l'interesse per non lo so stiamo creando molte cose siamo all'università abbiamo progetti in ballo non abbiamo soldi tutte tutte cose che dicono non è il momento ok una donna arriverà anche al punto di minacciare di andarsene quanti di voi sono andati a convivere perché la donna ha minacciato ha detto è però non ha non ha senso che rimaniamo insieme aveva ragione aveva ragione ma non come la vedete voi aveva ragione perché lei sta costruendo una cosa e quando per colpa tua questa cosa non può crescere perché tu la blocchi si sente soffocare e piuttosto se ne va ok quindi quando un uomo diventa morbido abbassa la guardia se ne va con lei a convivere quindi dice ok l'ho fatto per lei credo nella famiglia credo nella nella relazione a lungo termine così si convince magari anche una certa età a 35 quasi 40 anni dice voglio mettere la testa a posto ho scelto questa donna mi sposo tutto il resto comincia a riversare volentieri è amore energia tempo attenzioni in quella donna e non è una cosa bella non è una cosa bella perché se fate un passo indietro la donna è stata attratta da te all'inizio ok ed è stata attratta proprio perché tu avevi tutto tanto da fare ok avevi le tue cose le tue passioni e per quello che ho detto fate distinzione tra un corso di seduzione e quello che vi dico io ok perché io il corso di seduzione che vado a in discoteca per l'obiettivo scopare e basta ragazzi non è così facile non è così facile perché adesso ci sono le chat ci si comincia si comincia a sentire scambia il numero e quello e tindere instagram tutte queste cose ok quello lì è tutto un investimento che stiamo facendo in quella donna ok avere la mentalità dell'abbondanza però ragazzi è faticoso lo sapete tutti che è faticoso chattare con delle donne uscire con delle donne anche uscire con una donna al giorno è una rottura di cazzo dopo un po spendete una barca di soldi spendete una barca di energia è normale andarsi a focalizzare su una è bello è bello assolutamente bello e solo che questa cosa se non la sapete gestire fa perdere la trazione perché come stavo dicendo se cominciate a riversare tutte le vostre energie tutto il vostro amore tutta le vostre attenzioni in una sola in una donna per lei non siete più la sfida di prima a quel punto il tuo valore scende e ritorniamo al fatto che lei comincia a guardarti dall'alto verso il basso e questo porta una perdita proprio inequivocabile di attrazione le ti guarda dall'alto verso il basso non ti apprezza che il topic di questo di questo video non ti apprezza perché perché non ha smesso di inseguirti ha smesso di stare male perché stare male nel senso buono perché tu scappi sei una persona che prima non c'era mai era difficile trovarti avevi sempre cosa da fare adesso ci sei sempre non sei più attraente quindi non sei più una sfida non sei più interessante ragazzi delle ricerche tantissime ricerche hanno provato che le donne hanno bisogno di provare questi sentimenti hanno bisogno di sentire che un uomo le fa correre le donne hanno bisogno di correre diranno sempre che è l'uomo che deve corteggiare sì ma all'inizio all'inizio sei tu che devi corteggiare una donna per forza ok quindi quindi quando una donna perde rispetto per te l'unica soluzione è andarsene andarsene perché allora ho avuto una chiamata una consulenza qualche giorno fa con con un ragazzo che mi ha detto che era era proprio in questa situazione la relazione era partita benissimo lui era pieno di donna ne aveva anche due o tre nello stesso momento poi questa era piuttosto interessante quindi lui ha detto senti cioè io vorrei anche sistemarmi quindi è interessante il sesso è una figata cioè fa delle cose che nessuna mi ha mai fatto e cominciamo anche a capire che se il sesso con una donna è meglio che con le altre possiamo raccontarci tutte le stronzate del no lei con lei ci parlo sì va bene però se stesso va male ragazzi è una parte molto importante ok quindi ha voluto dedicarsi completamente a lei non sono andati a convivere però ha cominciato a essere lui che scriveva lei essere sempre disponibile a essere cosa che prima non era ma perché perché prima aveva altre donne ok non è che nascondesse anzi lei era anche intrigata dal fatto che lui avesse altre donne ok perché perché è diventato una sfida nel vero senso della parola non ti sfido è diventato qualcosa da conquistare e quel tipo di sfida è diventato qualcosa da vincere e far perdere alle altre è quello interessante per una donna è quello che puntano a fare solo che appena vincono e appena vincono c'è un'altra sfida no se no che cos'è che girano con te il mio trofeo no non ragionano come come gli uomini con le donne trofeo soltanto per farle vedere agli altri ok quindi a questo punto che cosa è successo nella testa di lei aia nella testa di lei lei ha cominciato a pensare oddio questo qua mi sta dando tutto mi sta dando attenzione sta investendo molto in me sta investendo molti in me e quindi non è sicuro non è sicuro stare qua non mi sento protetta questa cosa in pochi ci pensano ma ed è anche per questo il motivo che questa donna se n'è andata ok perché ha cominciato a non rispettarlo e poi se n'è andata se n'è andata ma adesso ci arrivo perché se n'è andata cosa vuol dire che non si sente sicura allora ragazzi se noi tu ti alleni ok ti alleni hai bisogno prima ti provi ad allenare da solo poi comincia a dire ho bisogno di un coach ho bisogno di un allenatore che mi faccia le mie schede tutto il resto se vai da questo allenatore e ti accorgi che tu ne sai più di lui ok continua andare da questo allenatore penso di no cambi giusto lo stesso esempio lo puoi fare con una banca sparo una banca particolare tu hai un il tuo il tuo sacchetto di soldi ok vai in una banca e li vuoi mettere al sicuro quando scopri che a parte che non è sicura ok lei si affida a te per tenere i tuoi lo so che è un esempio contorto ma è per farti capire che quando tu punti a qualcosa che ti dà sicurezza e poi capisci anche in un business ok inizio un business o non lo so comincia a fare società con qualcuno e poi capisci che tu hai tutte le responsabilità addosso ti senti sicuro col tuo socio o coi tuoi soci no ok e quindi che cosa fai non ti senti sicuro e te ne vai alla ricerca di qualcosa che ti dà sicurezza che ti dà più stimoli la stessa cosa lo fa la donna quando lei che è stata attratta da una persona che aveva una sua mission aveva i suoi obiettivi si inseguiva qualcosa che lei non si poteva neanche permettere perché era troppo grande per lei è questo che attrae la donna a te ok se tu sei quella persona attrae la donna in quel modo se poi comincia a focalizzarti su di lei tu dove sei focalizzato sul tuo business sul tuo su diventare più importante diventare a crescere il tuo corpo la tua imparare cose nuove migliorare oppure sei focalizzato su di lei se tu sei focalizzato su di lei cioè il focus dove lo metti il tuo obiettivo dove lo piazzi la calamita attaccata al frigo dove la metti sulla sua foto o su quello che devi fare giornalmente per allenarti o per portare la tua startup a livelli elevati se la calamita la metti su di lei se il pensiero che è involontario ragazzi ma bisogna accorgersi di queste cose se tu sei talmente cotto di lei sei talmente innamorato di lei in più vieni sostenuto dal fatto che è un bene fare così per la coppia che non è assolutamente vero svegliatevi non è assolutamente vero e ve lo sto spiegando ve lo sto dimostrando proprio perché se tu metti il focus su di lei la calamita su di lei lei se ne va lei se ne va proprio perché non sei una sfida lei è diventata lei stessa il tuo obiettivo e come ho detto prima non si sente sicura proprio per il discorso che prima si sentiva sicura proprio perché tu la portavi in un posto eri tu che la portavi in una vita nuova cazzo ragazzi c'è un sacco di persone adesso dicono ho conosciuto quella ragazza perché è talmente interessante come ragazza infatti che è venuto in consulenza talmente interessante talmente bello star che mi ha colpito proprio perché è una che legge che va ai concerti è una che va alle mostre ma tu che cosa fai? cioè ok lei è 30 per te benissimo infatti è poi lì no che lei è attraente per te tu che seduci perché lei ti ha tratto tu seduci una persona che ti ha tratto ma se è lei la persona che ti attrae tu chi sei? quello che insegue e lei non si sentirà non si sentirà attratto da te ok? dopo diventa soltanto un accordo tra le parti ok ci piacciamo stiamo bene la vita è simile il giro di amici è simile va bene non diamo dispiacere i genitori non diamo dispiacere i nostri amici dopo la coppia diventa così capito? quindi ripeto la donna perde rispetto all'inizio vi ho detto che volevo farvi anche un un excursus su rispetto attrazione e amore c'è una sequenza da rispettare non c'è l'amore che arriva per primo non c'è l'attrazione che arriva per primo prima di tutto c'è il rispetto all'inizio una donna esce con te perché ti rispetta rispetta il tuo tempo rispetta te come persona sei interessante e quindi vuole sapere molto di te e ti rispetta rispetta la tua vita il rispetto poi porta attrazione l'attrazione porta l'amore quando finisce una relazione ragazzi non è che se ne va l'amore non è lei non è più innamorata se ne è andato prima il rispetto di conseguenza se ne è andata l'attrazione e di conseguenza se ne è andato l'amore funziona così è come un trenino che si porta dietro gli altri sentimenti la buona notizia è che se una donna dice di non essere più innamorata di te tu potresti aggiustare le cose semplicemente ricostruendo il rispetto ed è per quello che ho detto quando una donna perde il rispetto vattene il ragazzo che è venuto in consulenza con me non ce l'ha fatta non ce l'ha fatta perché intanto bisogna riconoscere per tempo e per quello che dico ragazzi quando sentite il campanello d'allarme ho sfogliato il mio libro andate direttamente al caso studio ce ne sono 40 che sono dei pattern quindi vi ritroverete assolutamente e sicuramente in quel in quel caso studio ok se no prenotate una consulenza d'emergenza con me e ce la sbrighiamo velocemente lui non era disposto lui non era disposto perché? perché aveva investito troppo perché nella sua testa aveva ancora l'immagine di lei quando era innamorata di lui quando all'inizio si sentivano e lei che scrive quell'immagine ragazzi quella donna non c'è più quando una donna perde attrazione quando perde rispetto non c'è più quella che vi rispettava è cambiata persona perché le emozioni sono cambiate e sapete benissimo che le emozioni poi creano anche il modo di comportarsi di una persona sentimenti e tutto il resto quindi quella persona non c'è più se noi viviamo ancora nella fantasia che possiamo recuperare quella situazione perché dici no lei è stata così lei era così quindi sicuramente tornerà ci stiamo soltanto illudendo c'è un modo c'è un modo ve lo dico in maniera sbrigativa ho detto di andarsene giusto quando noi facciamo capire alla donna ovviamente quando ci sta sta perdendo rispetto ok il primo segnale è che perde rispetto ricordatevi se perde rispetto in poco tempo perde attrazione e poi amore quindi ciao se perde rispetto se comincia a trattarvi in un modo che non vi piace tanto comincia a rispondervi che ne so risponde ai messaggi in tipo 24 ore dopo voi ve la prendete e poi lei vi dice anche sì vabbè ma non era una priorità vuol dire che voi non siete la sua priorità ok e se non siete la priorità non ha senso stare con quella donna sempre per tutto quello che vi ho detto in questo video se voi ve ne andate e fate capire che non potete vivere tranquillamente senza di lei e non starete lì a inseguirla o a fare di tutto per ritrovare quell'amore quell'amore quel filo rosso immaginario che vi stavo unendo lei capirà con la prova certa quindi non soltanto a parole non no posso cambiare vi raccontate le cagate con la prova che voi ve ne andate se voi ve ne andate date la prova tangibile che potete vivere tranquillamente senza di lei che avete una vita e lei a quel punto lì dirà cazzo mi sono sbagliata grazie a tutti